Elisabetta Canalis pronta per la palestra, in un sexy sporty look Ecco come risplendere di luce propria di prima mattina, Elisabetta Canalis indossa un sexy sporty look per la sua giornata in palestra e incanta tutti i fan L'ex velina sarda adora trascorrere il tempo in questo luogo meraviglioso, che le permette di allenarsi sul tetto del mondo. Elisabetta Canalis risplende di sensualità, ecco il suo sporty look show e cine Che a Elisabetta Canalis piaccia tantissimo tenersi in forma è ormai notizia più che chiara per tutti quelli che la seguono su social, la neo39enne, come noto, adora allenarsi ogni giorno nella sua palestra di Los Angeles preferita Da qui, quotidianamente, l'ex velina condivide foto o video dei suoi super workout intensivi, ma ogni tanto c'è anche spazio per il relax Come in questo momento appena pubblicato su Instagram, per esempio, quando Elisabetta, di prima mattina, prende il chilometrico ascensore che la porterà in cima al mondo, ovvero sul tetto di un grattacielo dove assede la sua meravigliosa palestra Questo posto l'ha davvero conquistata e, da quando si è trasferita in America, è qui che si allena duramente ogni giorno, un po' per scolpire sempre più il suo fisico, già meraviglioso in natura, un po' perché si diverte tantissimo tra queste mura e a cielo aperto, visto che la terrazza è provvista di prato per potersi allenare respirando il vento della California Eli si concede ai suoi fan nel modo più semplice e naturale possibile, che le dona una bellezza ancora più pura, acqua e sapone e in sporty look Ovviamente, trattandosi della Canalys, gli outfit sono sempre piuttosto sexy su di lei, come in questo caso, la bellissima mamma di Schiele Reva indossa una felpa leggera griffata a show e cine, abbinata a un paio di cortissime culotte che le lasciano scoperte le bellissime e toniche gambe da modella e showgirl Elisabetta è seduta elegantemente, come se fosse una bellissima ballerina in un attimo di riposo, con i capelli lasciati liberi di ondeggiare la brezza mattutina, i tocchi di make-up sono ristretti al minimo, il suo beauty look è perfetto così com'è Naturale. Chissà cosa prevedrà oggi il suo training, nei giorni scorsi, ne abbiamo viste delle belle. L'allenamento preferito di Elisabetta Canalys Di recente, Elisabetta Canalys ha condiviso con i suoi fan il suo tipo di allenamento preferito, a dire la verità, poi, si tratta di una particolare specie di combattimento Lo sport che pratico con più passione, scrive sui social l'ex velina, riferendosi al Krav Maga, ovvero una lotta che prende in prestito alcune tecniche dalle arti marziali, ma che le rende più libere e impulsive durante l'allenamento Ovviamente, si tratta di colpi inferti e difesi senza provocare alcun danno all'avversario, ma il workout è serrato intensivo, dunque molto utile anche dal punto di vista aerobico e non solo muscolare Oltre a queste sedute di combattimento israeliano, la Canalys si concede ogni tipo di esercizio, in ultimo, ha dimostrato ai suoi fan come riesca a meditare anche a testa in giù, appendendosi in equilibrio a uno dei suoi macchinari preferiti in palestra I look. Sono sempre piuttosto sexy e, se non composti da felpa e culotte cortissime, presentano gimpants attillatissimi o leggings colorati, abbinati a tope t-shirt performanti